ciao mamma come andiamo oggi bene 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 vai mamma grata te lo tengo io il telefono perché con la teccia su che se direi io vado a fare crepe e via vai per cava via questo non è in cariole poi ti metti vai grata bene adesso ti diamo le monete dai su niente vai via st'altro vai veloce su ma grata due che sei numeri e basta non sta a grattare il paradiso il paradiso dai tonona in cariole anche a te o che sei 11 12 14 niente vai sul bonus conto conto 12 6 5 2 16 di grattare il bonus 0 va avanti grata st altro 5 6 7 8 9 10 11 12 no ma neanche qua monea non ti sei in grado di grattare no no perché go go